Buona giornata amici da Massimo Fughetti, oggi è martedì 19 luglio 2022 e questa è la rassegna stampa di Fano TV con la quale cominciamo la giornata, poi ci saranno anche delle repliche nelle ore successive. Vediamo subito l'almanacco, troviamo il Santo del Giorno con Sant'Arsenio il Grande. Sant'Arsenio visse tra il IV e il V secolo e morì ad un'età piuttosto avanzata per quel tempo, a 95 anni. Dopo una mezza vita vissuta nel deserto, piangendo sulle miserie del mondo, ebbene, spirò e andò in cielo. Allora l'impero era governato da Teodosio e l'impero fu messo a dura prova anche dalle conquiste del re Barbaro Alarico e in lui il pianto, la sofferenza, in lui a Sant'Arsenio, divenne la gioia per aspirare all'impero celeste. Insomma condusse una vita tra lacrime e pianti, ma alla fine trovò la consolazione nella sua morte. Abbiamo scoperto così quello che è la caratteristica di Sant'Arsenio, che sono le lacrime, le lacrime consolatrici. Vediamo anche le previsioni del tempo. L'anticiclone africano si mantiene stabile sulle Marche e ancora protagonista per un martedì stabile con cieli sereni o poco nuvelosi su tutta la regione. Il clima si mantiene piuttosto caldo, le temperature uscillano tra i 21 e i 27 gradi. I venti ispirano da una direzione con una tensione debole da una direzione di est-nord-est sulle coste, lo stesso per quanto riguarda l'entroterra e le temperature sembrano in leggero calo, ma su questa previsione io non ci scommetterei molto. Ebbene, con questa piccola osservazione apriamo il giornale a partire oggi dal Corriere Adriatico. Vediamo la prima pagina. Eccola qui. Piscina a settembre si parte. È il titolo che riguarda Pesaro. Finalmente il Comune sembra aver risolto il problema della gestione di questo impianto, la svolta dopo l'estenuante tiremolla per la gestione del Polo Facchini, ancora incompleto. I milioni del PNRR sono stati intercettati e serviranno anche per altri impianti. Gestione il Comune cambia. Ma la fotonotizia del Corriere Adriatico, così come poi vedremo quella del resto del Carlino, è dedicata ad una notizia di sport, alla grande vittoria della nazionale femminile di volley, che è insomma diretta, allenata da due personaggi del nostro territorio. Sono veramente personaggi importanti. Che festa per Mazzanti e Bertini. Con il volley anche Marotta sul tetto del mondo. Marotta è la località appunto di Mazzanti. E poi le tre notizie a centropagina. Telefonate, trappola per luce e gas. Attenzione perché questi raggiri non cessano mai, nonostante mille avvertimenti che si diramano di volta in volta sui giornali. A Cagli un incidente investito dal fuoco del miscelatore e grave un operaio. A Corinaldo gang della lanterna condanna bis per sei. Un piano criminale. Sono le motivazioni della sentenza che è stata emessa per quanto riguarda l'ultimo giudizio. È ancora di spalla. Cara Ascoli, prezzi stellari. Ancona soffre un po' meno. Si parla del costo della vita. E per quanto riguarda la siccità, un ennesimo articolo. Gli agricoltori si pagano ormai le autobotti perché altrimenti il raccolto va a rotoli. Apriamo il giornale sulla pagina fanese e vediamo come l'apertura è dedicata ad una seconda tranche di avvisi e di accertamento sulla Tari. Tari, seconda valanga di avvisi, Andreani a caccia degli evasori. Andreani è ha ricevuto l'incarico del Comune di accertare l'evasione tributaria. Richiesti pagamenti piuttosto esosi. Gli accertamenti hanno rilevato anche evasioni per 500, 400, 500 euro. I ricorsi sono spesso troppo onerosi e quindi la gente si convince a pagare. Poi arriva anche il conguaglio ASET perché gli accertamenti riguardano quattro anni dal 2017 al 2020. Poi arriverà un altro avviso di pagamento per il 2021 e il 2022 e poi in avanti la tassa maggiorata di quello che è stato ritrovato in più. Insomma, non c'è da scherzare. Per quanto riguarda tutto quello che aumenta in questi giorni tra le fonti energetiche, tra il carovita, gli alimentari eccetera, ora arrivano anche gli accertamenti. Ambiti sociali sul calco dei distretti sanitari. È la richiesta in consiglio di una lista civica presente in consiglio comunale, Azione più Europa, lista civica movimento partito, come quella appunto di Inserra. Una migliore gestione dei servizi alla persona può scaturire dal riordine territoriale degli ambiti sociali. E se gli ambiti sociali poi coincidono con i distretti, questo veramente può attivare una migliore assistenza. Un'intera pagina dedicata dal Corriere Adriatico alla vittoria della Volpe, della fazione della Volpe alla Fano di Cesari. Volpe che trionfa. un titolo a prima pagina, ma sono belle le fotografie che vengono pubblicate. Qui il popolo della Volpe che esulta. Qui un manipolo delle costruzioni storiche della colonia Iulia Fanestris che insieme a Simma Chiellenon è stato un po' il motore di questa manifestazione che era donato in tutto 15 gruppi storici provenienti da tutte le regioni d'Italia. E qua abbiamo invece l'auriga della Volpe che ha, dopo una traversia, infatti c'è stato anche un piccolo incidente durante la corsa, ha conquistato la vittoria. La fazione ha vinto la corsa delle bighe dopo un colpo di scena. Nella finale il cocchio si è ribaltato, ma il giudice ha fatto ripetere la gara e l'auriga si è riscattato vincendo appunto il trofeo della Fano dei Cesari. E qua abbiamo una notizia di cronaca. Vandali e ladri alla Darsana. Non è la prima volta che si verifica questo fatto, ma questa volta siamo arrivati veramente al limite. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto semplicemente dei dispetti, perché poi insomma non è che hanno rubato granché, però hanno tolto le copertine dalle barche, hanno fatto dei dispetti, qualcuno ha fatto anche la pipì all'interno degli abitacoli. Insomma c'è stato un bel ride che è stato fatto sulla banchina del porto canale. Sulla banchina sono stati infatti trovati addirittura alcuni cumuli di penne d'oca che hanno fatto pensare a qualche trattamento cattivo nei confronti di un animale. Sembra però così non sia. Sembra che le penne siano fuoriuscite da un cuscino che è stato squarciato. Speriamo che sia così e non si sia sacrificata un'oca. Ebbene i malintenzionati hanno rubacchiato qua e là piccole cose di un valore economico trascurabile, però c'è stata anche la sparizione di una canna per la pesca di tonni. Insomma qualche euro costa anche questa canna. Articolo di fondopagina. Il consuntivo della Summerschool di Vitruvio, organizzata dal Centro Studi Vitruviani. Sono stati consegnati gli attestati un'iniziativa che evidenzia ancora di più il valore di questo personaggio per la città di Fano e tutto il proseguo poi di attività del Centro Studi Vitruviani che oltre alla Summerschool organizzata nei giorni scorsi ha edito una rivista che poi sarà appunto replicata di anno in anno di valore internazionale. C'è anche un avviso. Tutti coloro che vogliono scrivere un articolo su Vitruvio, ma ovviamente si parla di studiosi di levatura piuttosto alta, poi l'articolo sarà vagliato anche dalla Commissione del Comitato Scientifico del Centro Studi, sarà pubblicato e sarà appunto sparso in tutto il mondo perché la rivista è edita anche in lingue straniere. Passiamo a Fossombrone dove troviamo anche qui dei teppisti, teppisti ancora in azione di notte, le impronte stampate sul morale. Questo è il bel murale fatto da insegnanti e alunni della media Fratelli Mercantini, un murale che è stato deturpato da scritte e da tracce di vernice che hanno imbruttito questo bel disegno che è stato fatto per onorare un personaggio importante di Fossombrone. Si tratta di Ottaviano Petrucci, è nato nel 1466 ed è morto nel 1539, forse impronese di nascita, conosciuto da tutti come il Gutenberg della musica. A lui infatti si deve un duplice merito. Il primo è rappresentato dal fatto che fu il primo a stampare testi musicali, a partire dal 1501 a Venezia. Il secondo è che, grazie alla sua invenzione, iniziò la diffusione della musica e delle composizioni dei maestri anche in paesi lontani. Ecco la musica di Lagò, grazie appunto alla stampa di questo personaggio. Ebbene, deturpare questa immagine è veramente dare uno sgarbo alla città intera. Apriamo ancora la pagina e passiamo a Marotta. Marotta qui vediamo invece la festa, mentre qua si piange per atti incivili, qua invece si festeggia. Volley Marotta sul tetto del mondo, grande gioia per Mazzanti e Bertini. Il sindaco accoglie a Milano i due tecnici dopo il successo in National League, poi la festa sul lungomare. Davide Mazzanti e Matteo Bertini, che dopo aver portato la nazionale femminile di volley sul tetto d'Europa, vi ricordate appunto la grande festa fatta per gli europei, domenica per la prima volta nella storia, hanno conquistato all'Italia la National League, anche qui una competizione di sicuro valore. Andiamo a Senigallia. A Senigallia la Movida è vietata agli under 18, un drastico provvedimento per evitare le intemperanze delle fasce più giovanili. Infatti spesso i minorenni si abbandonano all'alcol e ora i locali li escludono per non avere noie. Il people ammette solo maggiorenni alle feste, altri chalet poi si adeguano. I ragazzi bevano e poi fanno danni. I buttafuori selezionano i clienti all'entrata. Nel fine settimana quattro giovani sono stati portati dalle ambulanze al pronto soccorso, ma pur essendo molto giovani erano comunque maggiorenni come la ragazza svenuta sulla spiaggia del lungomare Alighieri. Insomma, maggiorenni e minorenni, insomma, quando hanno una fascia di età che va dai 14 ai 23-24 anni in modo particolare, poi ci sono anche quelli che arrivano prima e dopo, sono particolarmente a rischio. Ancora sulla pagina di Ancona troviamo invece il verdetto del piano criminale della gang di Corinaldo, il verdetto del giudice. Strage della Lanterna Azzurra, la condanna d'appello ha riconosciuto l'associazione ai sei rapinatori. I sei della banda dello spray formavano una struttura organizzata, seppure a geometria variabile, basata sul requisito dell'accordo, quello di portare avanti un duraturo programma criminale finalizzato alla commissione di furti e rapine nelle discoteche di Mezza Italia. Questo è uno stralcio della motivazione della sentenza d'appello che lo scorso 17 marzo ha portato alla condanna bis dei sei ragazzi della bassa modenese, accusati di avere contribuito a scatenare in quella fatidica notte dell'8 dicembre del 2018 il caos all'interno della lanterna azzurra che poi insomma ha provocato quello che tutti sappiamo, la calca, insomma la confusione e poi insomma quello che si è verificato con la morte dei ragazzi. Ed ora diamo un'occhiata alla pagina pesarese sul Corriere Adriatico. Rivediamo qui l'articolo sulla piscina di via Togliatti che riparte a settembre intanto a Casa VL a regime. Il Comune vede la luce dopo l'estenuante tira e molla per la gestione dell'impianto. I 4 milioni del PNRR serviranno al completamento. Altri fondi poi sono disponibili per Torraccia e Cinque Torri. Tra i problemi da risolvere ma parzialmente risolti è la difficoltà di trovare un'intesa con i vincitori del bando per la gestione degli spazi e degli orari legati alla parte natatoria dell'impianto. Poi c'è stato veramente l'annuncio dopo tante trattative, l'annuncio dell'accordo con Casa VL per la consegna delle chiavi. Insomma sembra che questo problema sia avviato a soluzione. Nodo alla gola e qui parliamo di un personaggio noto che spesso è salito da ribalta della stampa. Si parla del preside del Marconi, Riccardo Rossini. Riccardo Rossini che dopo tanti anni di gestione del suo istituto passa ad altro incarico. Dirigerà l'istituto agrario Cecchi a Villa Caprile. In questo articolo si enuncia un po' il dispiacere, il ramarico di lasciare un istituto a cui il preside si è sentito legato. Un istituto che ha difeso, elevando la sua voce, quando diversi poi altri colleghi stavano zitti per così migliorare la situazione dei propri studenti. Dunque un personaggio che anche gli insegnanti e gli stessi ragazzi rimpiangeranno. Villa Caprile incassa altri finanziamenti in tanti, quasi due milioni e mezzo per la nuova palestra. La soddisfazione anche della provincia e del presidente della provincia che evidenzia questo finanziamento. Siccità, i terreni e il bestiame sono a secco. Gli agricoltori si pagano le autobotti, insomma bisogna fare il fai da te. Il presidente della Coldiretti, Tommaso Di Sante, dice da oltre 60 anni non si vedeva un periodo così siccitoso e se vogliamo salvare parte del raccolto bisogna industriarsi per proprio conto. E qui parliamo di un raggiro. L'abbiamo anticipato nella prima pagina. Si tratta di un raggiro fatto a coloro che ricevono telefonate per cambiare il contratto della luce e del gas. Telefonate trappola per luce e gas oltre un centinaio di segnalazioni. La D-Consum, che è un'associazione che tutela appunto i consumatori, avverte gli utenti e spiega come uscire dai contratti capestro carpiti con l'inganno. Ebbene si parla di inghippi, di sotterfugi, se non veri e propri raggiri sul mercato libero dell'energia. Nel Mirino ci sono i call center e alcune delle società fornitrici per le telefonate trappola. È difficile sfuggire poi alla perspicacia degli operatori dei call center. I consumatori facciano più attenzione perché il fenomeno è in aumento ancora di più in questo periodo di rialzo dei prezzi, quando magari il proprio contratto comincia a diventare esoso e c'è la tendenza a cambiare fornitore. A lanciare l'allarme appunto all'associazione a D-Consum. Ebbene si sente dire dall'altra parte del telefono ho il piacere di proporle un nuovo contratto a tariffe molto vantaggiose. Lei è stato selezionato tra i clienti per questa offerta ma servono però i suoi dati personali e così il contatto capestro è servito perché poi uscirne è un'impresa. Fornire i propri dati personali è proprio il trucco, è proprio l'escamotage dell'operatore per fare poi un capestro molto difficile poi da sciogliere. Un contratto capestro molto difficile poi a sciogliersi. Mix d'acqua e alcol esplode e l'investe. La fiammata gli ostiona volto e braccia. Un grave infortunio è accaduto a Cagli in una distilleria. Si tratta di un cinquantenne fratello del titolare dell'azienda che è stato ricoverato in Ancona. La fiammata lo ha investito nel viso, nella parte frontale proprio raggiungendolo anche su entrambe le braccia e su una parte delle spalle. Ha dovuto essere ricoverato tramite l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Un grave infortunio dunque accaduto. E poi passiamo alla pagina di Urbino dove si parla della riforma sanitaria difesa dall'assessore Elisabetta Foschi. Ora avanti così ha dichiarato l'assessore Marche Nord prima o ancora oggi penalizzava Urbino afferma. Assessore sugli obiettivi mancati dell'azienda. Dai sindaci attendo un voto non ideologico ha detto, non un voto di parte, non un voto contrario perché sei di centro-sinistra ma un voto ragionato per quanto riguarda le aspettative appunto degli utenti, dei pazienti che frequentano appunto le strutture sanitarie. Abbiamo esaurito l'esame del Corriere Adriatico. Vediamo ora la pagina del resto del Carlino. Il titolo è dedicato al grande palace di Pesaro. Nessuno si va avanti per l'astronave. Caccia un gestore per la Vitifrigo Arena. È il vecchio palace. Non ci sono al momento risposte. E Colombo va dagli avvocati. E poi vediamo invece le due fotonotizie bellissime per quanto riguarda il trionfo della nazionale femminile azzurra di Volley. L'oro del Volley è qui nella nostra provincia, nella nostra regione, nel nostro territorio. Mazzanti e Bertini e Valentina Bartolucci. Festa dopo il trionfo in National League e con l'Under 21. Rossini lascia il Marconi. Una nuova avventura al Cecchi Agrario, sempre di Pesaro. E poi vediamo per quanto riguarda lo sport e la VL. Assalto alla guardia. Visseco Borsoi. Si parla di basket ma si parla anche di calcio. Terribile volo con l'auto. Muore un anziano. Abbiamo qui una foto drammatica dell'auto finita nella scarpata. E poi a Fano, nel Porto Canale, un raid vandalico. Danneggiano 25 barche. Caccia e video per rintracciare gli autori. Vediamo ora l'interno del resto del Carlino. Due pagine dedicate alla festa del Volley. Da Villa San Martino fino al tetto d'Europa. Valentina, Valentina Bartolucci è una delle protagoniste di questa vittoria. 19 anni e tra le magnifiche protagoniste che hanno regalato il trionfo all'Under 21 della pallavolo azzurra. Mio nonno mi ha spinto da lassù, ha dichiarato facendo un atto d'amore per il suo parente. E poi l'abbraccio di Marotta, Amazzanti e Bertini. Giro d'onore sul lungomare straordinari. Non ci sono parole per definire la gioia, l'entusiasmo scaturito da questa vittoria. E tutta la frazione, tutto il paese esulta. E qui vediamo il problema dell'astronave. L'astronave a gestione privata è la soluzione per il post Colombo. Sappiamo come Colombo è stato contestato per quanto riguarda appunto la gestione. L'avviso comunale di manifestazione di interesse non trova per ora risposte da parte di aziende, mentre il manager trasferito al controllo di gestione dell'Aspes pensa a una causa di lavoro. Insomma, Colombo non ne sta inerte di fronte a quello che sta accadendo. Giriamo pagina e vediamo il problema della siccità. Anche qui sviluppato tramite le dichiarazioni del presidente della Col di Retti, Tommaso Di Sante, presidente provinciale. A rischio sono gli olivi, le vite, le viti, ma anche la frutta, gli ortaggi, i girasoli, le barbabietole da zucchero. Saccomandi dell'azienda nonno Ciro dice che la produzione di foraggio per i miei bovini è scesa del 35%. E non solo l'agricoltura per quanto riguarda la coltivazione dei campi soffre di questa situazione, ma soffre anche l'allevamento, perché poi tutta una catena. Il foraggio deve servire per alimentare le bestie, le bestie se non hanno l'acqua non prosperano, il latte, la carne, insomma, poi tutto contribuisce all'aumento del caro vita. E invece qui vediamo una festa, anzi, vediamo l'Ulissefest, l'Ulissefest che si è conclusa con una grande edizione e il viaggio tornerà nel 2023. Gli organizzatori, indimenticabile grazie alla splendida accoglienza di Pesaro. Ebbene, gli organizzatori sono felici, hanno calcolato le presenze in 25.000 unità. Si tratta della festa del viaggio di Lonely Planet, che è chiuso domenica, senz'altro con un bilancio molto molto positivo. Tre giorni, 150 ospiti, 35 incontri, 11 workshop e 16 sessioni. I concerti di Goran Bregovic e la sua Wedding and Funeral Band, che ha riempito Piazza del Popolo. Insomma, veramente un weekend da favola per Pesaro. E qui vediamo come la nostra gastronomia di Laga, insomma, viaggia un po' in tutto il mondo. Si tratta grazie anche alle iniziative di un pizzaiolo pesarese che va in Brasile e porta in tv la pizza Rossini. È la vicenda di Salvatore Marchisella, partito per San Paolo del Brasile e poi rimasto lì a causa del Covid. È diventato protagonista sul piccolo schermo della tv brasiliana con le prelibatezze della nostra terra e in modo particolare appunto della pizza. Tralasciamo un attimo, ma leggiamo solo il titolo, per quanto riguarda, abbiamo già parlato del trasferimento del preside Riccardo Rossini dal Marconi al Cecchi. Il nuovo preside, Luca Maria Antonio Testa, è quello che subentrerà a Rossini per la guida e la gestione del Marconi. E poi ancora, palestra a Villa Caprile, arrivano i milioni, fondi del PNRR per l'Istituto Cecchi, l'annuncio del presidente della provincia Paolini. Gli unici a tenere i fondi nelle Marche siamo stati noi, ha dichiarato. 2 milioni e 300 mila euro per la realizzazione di questa nuova struttura. E qui siamo alla pagina di Fano. La pagina di Fano apre calzando, sviscerando ancora quella fotografia che è apparsa, prima a livello di gossip e poi costituendo un vero proprio caso politico. Quando a cena sono stati così un po' visti insieme l'assessore Mascarin, abbiamo Mazzanti del Movimento 5 Stelle, abbiamo Serafini, dirigente appunto del Movimento e qua abbiamo il manager del Comune, il dirigente Pietro Celani. Cena dello scandalo, Seri, commenta, fatto molto grave. Credo che comunque si monti una vicenda un pochino più del necessario, ma questo è un commento al quale mi astengo, insomma, non lo faccio anche se l'ho fatto. Mascarin, polemica, strabica e forzata, ha dichiarato reagendo appunto alle valutazioni che sono state fatte in questo caso, in questa cena. È stata una cena di lavoro dedicata ad approfondire aspetti tecnici della proposta regionale sulle autorità d'ambito dell'acqua, iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle e presentata qualche settimana fa in conferenza stampa in Comune. Ebbene, data la natura tecnica dell'argomento, ho creduto opportuno invitare anche Celani. Questa è la dichiarazione di Mascarin. E qui abbiamo invece l'articolo che riguarda il raid vandalico, danneggiate 25 barche sul porto canale e ancora. Carnevale e fiera, il Comune trova le strade. Sassonia, la sfilata dei carri, solo il 13 e il 14 agosto. E con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle notizie del 20 e 30 di Occhio alla Notizia, il Tg di Fano TV e domani alle 7 per il ritorno della rassegna stampa. Questo è tutto per il momento. A risentirci.